...di Omnibus che è fortunata perché ha qui due ospiti importanti che sono in grado di commentare veramente la notizia al giorno, quattro ospiti, due però capirete perché sono particolarmente importanti. È nato il nuovo patto di stabilità, un po' a sorpresa per la verità perché ieri l'Ecofin era in videoconferenza e tutti dicevano ma no serve una riunione in presenza per siglarlo, in realtà è stato fatto nonostante si fosse in videoconferenza. Vi presento subito gli ospiti, c'è il professor, dico così, Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASVIS, Alleanza dello Sviluppo Sostenibile, ma è stato, lo dico, ministro del lavoro nel governo Letta, ministro delle infrastrutture con Draghi, quindi ha lasciato relativamente recentemente e prima di essere nelle compagini di governo era stato per quattro anni presidente dell'ISTA. Buongiorno. Giannina Landau, classi MBC, buongiorno Giannina. Buongiorno. E da quest'altra parte il professor Tria, altro economista, buongiorno professore, che è stato ministro dell'economia con il primo governo Conte, quindi fra il 2018 e il 2019, quindi l'Europa la conosce bene perché ha trattato. Roberto Arditti, buongiorno, direttore editoriale di Formiche. Il patto, vediamo come abbiamo trattato questa notizia. Ieri sera nel telegiornale delle venti la notizia era praticamente appena arrivata perché c'era stato l'annuncio della ministra spagnola Calvigno e poi tutti gli altri paesi, ultima l'Italia, hanno detto sì. Vediamo. Un nuovo quadro di governance economica che garantisce stabilità e crescita con regole che sono equilibrate, realistiche, adatte per le sfide presenti e future. Così la presidente di turno dell'Ecofin, la spagnola Calvino, presenta l'intesa arrivata in extremis sul nuovo patto di stabilità. In via libera, al termine della riunione dei ministri dell'economia dei paesi dell'Unione Europea, in videoconferenza, con la volata finale tirata da Francia e Germania in contatto permanente, fanno sapere, con la presidenza spagnola e con l'Italia. Il nuovo patto è più realistico delle regole attuali, dice il ministro Giorgetti, che pure a un certo punto della lunga trattativa aveva spiegato che sarebbe stato meglio tenersi le vecchie regole per evitare una riforma che rischiava di danneggiare un paese ad alto debito come l'Italia. E con Giorgia Meloni, che aveva lasciato balenare una settimana fa la possibilità di un veto italiano sulla riforma. Ci sono alcune cose positive ed altre meno, dice ora Giorgetti. L'Italia ha ottenuto però molto e soprattutto quello che sottoscriviamo è un accordo sostenibile per il nostro paese, volto da una parte a una realistica e graduale riduzione del debito, mentre dall'altra guarda agli investimenti, specialmente il PNRR con spirito costruttivo. Accolta infatti le richieste di estensione automatica del piano connessa agli investimenti del PNRR, l'aver considerato un fattore rilevante gli investimenti per la difesa, lo scomputo della spesa per interessi dal deficit strutturale fino al 2027. L'intesa prevede tra l'altro che i paesi con un debito oltre il 90% del PIL, come Francia ed Italia, dovranno ridurlo dell'1% l'anno. Una buona notizia per l'Europa. I testi concordati oggi riflettono un compromesso tra posizioni diverse. È normale il giudizio del commissario europeo all'economia Gentiloni, che sottolinea come l'Italia abbia avuto un ruolo decisivo nell'intesa. Finalmente il patto di stabilità diventa il patto di stabilità e crescita. Si conclude la stagione del rigore, dice il vicepremier forzista Tajani. Niente più austerity, la riduzione del debito sarà realistica e graduale, il commento positivo della Lega. Negativo quello della segretaria PD Schlein. Francia e Germania si sono accordate e l'Italia prende atto a testa bassa. Il governo è rimasto a guardare mentre si chiudeva. Un accordo dannoso per il nostro Paese. Il leader 5 Stelle Conte parla di pacco di stabilità che si tradurrà in un cappio al collo per il Paese. Professor Tria, vinciamo o perdiamo con il nuovo patto? L'Italia. Io penso che il nuovo patto perde l'Europa. È stata persa un'occasione per dare una svolta. l'Italia, io penso che per la prima volta forse un governo italiano aveva le posizioni europeiste che consistono nel richiedere una distinzione tra spesa corrente e spesa in conto capitale. Recentemente anche Mario Draghi ha detto che l'Europa sarebbe andata in dissoluzione senza una svolta in cui si doveva riconoscere la necessità di grandi investimenti europei. Quelli del PNRR ad esempio? PNRR sono una parte, ma le grandi priorità europee e quindi grandi progetti di investimento. Non essendoci una politica fiscale di bilancio europea bisognava passare attraverso le politiche nazionali e la linea sarebbe stata quella di un controllo dei bilanci nazionali incentivando lo spostamento da spesa corrente a spesa in conto capitale sulle priorità europee. Queste erano le posizioni difese dall'Italia. Ripeto, per la prima volta l'Italia era su posizioni credo corrette, non è andata così, credo che una crisi di leadership di due principali paesi, Francia e Germania, abbiano giocato. La Commissione ha giocato con la sua proposta secondo logiche vecchie, di correzioni di alcune cose che non andavano nelle vecchie regole. D'altra parte si va al voto europeo, quindi ognuno pensa a casa propria. Poi se vogliamo dire abbiamo vinto o no, in base agli interessi soltanto nazionali, ma interessi limitati a... Che non sono quelli europei gli interessi nazionali teoricamente. Teoricamente non sono gli stessi. Interessi nazionali dovrebbero coincidere con quelli europei, ma l'interesse nazionale visto nella possibilità di rispettare le regole, beh io credo che in fondo questo compromesso apre la possibilità di rispettare le regole anche per l'Italia, perché alcune regole quantitative, alcuni limiti sono io credo in fondo accettabili da questo punto di vista. Professor Giovannini, intanto io segnalo il libro che lei ha scritto, ricordandoci, lo vediamo magari la copertina, eccolo qui, il suo ultimo lavoro, i ministri tecnici non esistono e quindi è quasi una dichiarazione veramente politica rispetto alla sua attività da Presidente dell'Istat, prima con il governo Letta e poi con il governo Draghi. Vinciamo o perdiamo? Credo che in parte per dall'Europa sono d'accordo con Giovanni Tria, ma perdiamo un po' tutti, perché ci sono degli elementi del patto, al di là dei decimali, dell'aggiustamento, che fanno sì che questo accordo non sia in grado di gestire shock, crisi come quelle che abbiamo vissuto. Ultime Covid, guerra? Esattamente, in cui il patto vecchio è stato semplicemente sospeso. Questo è un errore, perché sappiamo che probabilmente avremo delle altre crisi di quel tipo e quindi sottoscrivere un patto che non è in grado di gestire situazioni eccezionali non mi sembra un grande passo avanti. Nella logica attuale del testo, così come l'abbiamo potuto vedere rapidamente, si accetta la logica tedesca, cioè se tu invece di stare al 3%, stai all'1,5% del rapporto tra deficit e PIL, hai un po' di spazio in caso di crisi per aumentare il deficit. In realtà, l'abbiamo visto... Diciamo per i provvedimenti di emergenza. Esatto, però un punto e mezzo di PIL di fronte a grandi crisi è insufficiente. Dopodiché ci sono delle contraddizioni. Se c'è un disastro ambientale come quello che abbiamo avuto in Romagna, le spese per ripristinare i danni sono fuori dal patto di stabilità. Quelle invece per evitare che un evento atmosferico diventi un disastro sono vincolate. Ora, questa cosa poteva andare bene quando nel trattato di Maastricht, tanti anni fa, si pensava che questi eventi fossero eccezionali. Purtroppo sappiamo che non lo saranno. E perché non va bene il meccanismo? Perché incentiva i Paesi a non fare prevenzione. Tanto poi dopo, se posso rimarare, è fuori dai conti. Ultima considerazione, sono un po' più positivo rispetto a Giovanni Tria da questo punto di vista, è che la Commissione ha più potere per spingere i Paesi membri non solo sui saldi, deficit, debito, ma anche sulla composizione di spese e entrate a favore degli investimenti, perché quello è il tema. Vedremo poi in pratica come questo potere della Commissione verrà esercitato, ma non c'è dubbio che, secondo me, visto anche quello che è successo con il PNRR, ci sono spazi per orientare meglio le politiche a quei grandi investimenti di cui abbiamo bisogno. Giannina, poi con i professori approfondiremo un po' meglio il patto in sé. L'Italia doveva dire sì perché poi c'è la prova dei mercati? E' questa una cosa importante ieri che è stata fatta? Pare che Giorgetti è stato l'ultimo a dire va bene anche all'Italia? Ci sono varie ricostruzioni. Ricordiamo che partivamo da 12 giorni fa in cui il Premier Giorgio Meloni aveva detto in sostanza forse metteremo il veto, c'è anche questa possibilità. Siamo arrivati a venerdì scorso che proprio alla manifestazione di Atreiu il Ministro Giorgetti aveva detto io non voto qualcosa che viene discusso in videoconferenza. C'è stata sicuramente un'accelerazione, l'accelerazione è stata l'incontro, il faccia a faccia tra i francesi e i tedeschi, poi sembra che ci sia stata questa telefonata poi tarda serata con Giorgetti per allinearlo e poi come diceva anche giustamente il servizio il fatto che Giorgetti sia una ricostruzione oggi giornalistica sia stato ieri l'ultimo a votare perché fino all'ultimo sperava che qualcuno potesse intervenire e quindi accodarsi a questa visione. Sicuramente i mercati stanno guardando la situazione d'Italia, l'Italia insomma non poteva tirarsi indietro anche perché abbiamo un'altra parola magica che non abbiamo ancora tirato fuori che è il tema del MES, quindi ci troviamo in una situazione Oggi la tiriamo fuori, forse. Difficile che la tiriamo fuori, manderemo la palla oltre campo e vedremo, insomma ci sono tre soluzioni in campo su questa partita. Sicuramente i mercati stanno guardando, siamo un paese con un debito altissimo dove ancora alcune riforme sono in fase di definizione, in forma della giustizia, in forma del fisco, insomma non è un paese dove è facile investire il nostro ma è molto appetibile perché ci sono in realtà sicuramente interessanti. Non possiamo tirare troppo la corda. Roberto Arditti, patto di stabilità e di crescita, in realtà ci dimentichiamo sempre la seconda parte del patto? Sì, la mia opinione è che intanto al tavolo dell'Unione Europea un grande paese come l'Italia alla fine deve partecipare agli accordi perché la logica di quel tavolo a 27 è che si può discutere fino all'ultimo minuto e poi sull'equilibrio raggiunto, tenendo conto delle volontà di tutti, un accordo lo si deve trovare. L'esempio che abbiamo vissuto anche nei giorni scorsi dell'atteggiamento ungherese, ad esempio, è un modo di non fare andare avanti una complessa architettura istituzionale come quella dell'Unione Europea che avrà pure mille difetti e li ha. La complessa è antica perché l'unanimità era quando erano sei, poi siamo diventati 27. Appunto, ma nella sua complessa io ricordo sempre che non abbiamo un'alternativa e quindi quello è l'unico tavolo rilevante al quale dobbiamo stare seduti ed è in fondo giusto così questa Europa con tutti i suoi difetti che tutti noi critichiamo, con la sua moneta unica, se guardo a quello che sta accadendo in Argentina in questi giorni, nei primi giorni di un nuovo ed energico presidente con una ricetta molto sfidante in termini di politica economica e però si confronta con un paese che è andato per conto suo in termini finanziari di gestione della moneta e si trova a fare i conti con un'inflazione altro che il 6-7-8% con il quale abbiamo fatto i conti in Italia negli ultimi due anni, la bolletta che pure figuriamoci se a quei numeri lì si aggiunge uno zero, che cosa voglio dire e concludo che secondo me l'Italia ha fatto bene alla fine a partecipare al patto, il patto però contiene un elemento che è la presa d'atto che sul piano politico vale molto a mio avviso, che le vecchie regole sostanzialmente non sono state applicate. il patto di stabilità originale è un patto che è fallito nel suo senso profondo, tant'è vero che abbiamo dovuto infinite volte fare degli accordi per non rispettarlo per veri periodi come la pandemia e l'altro e adesso lo riformiamo in un senso più elastico. Roberto giustissimo, le vecchie regole non sono state mai rispettate ma non sono mai state sostanzialmente applicate nemmeno le penalizzazioni che erano accoppiate alle vecchie regole. E ci mancava pure, tant'è che i problemi li hanno avuti quasi tutti i paesi. Ultimo punto sul tema di come... Il professore ne sa qualche cosa perché le minacce delle penalizzazioni lui dovette trattare a lungo con Bruxelles. Non ci dimentichiamo che dentro tutto questo, perché il tavolo di Bruxelles contiene anche insieme a tanta voglia di lavorare insieme e solidarietà dei paesi europei anche una certa quota di concorrenza tra loro e le difficoltà dell'economia tedesca in questi ultimi anni pesano nel guardare all'Italia che è tutto sommato il più grande competitor su molte produzioni dell'economia tedesca. Quindi diciamo che nei nostri amici tedeschi trovi spazio, l'idea di non dare troppo spazio all'Italia in termini finanziari secondo me corrisponde al vero. Approfondiamo tra un istante con i due professori. 8.25 in questo momento. Professor Tria, allora cerchiamo di capire meglio intanto quanto peserà il nuovo patto nella vita dei cittadini, se pesa in qualche maniera. Perché poi l'Italia, definita sempre paese spendacione, per tantissimi anni ha avuto un avanzo primario, cioè al netto delle spese per gli interessi che paghiamo su un debito enorme e quindi sono altissime, spendevamo meno di quello che incassavamo in tutte le forme. Quindi proprio, come dire, cicale non siamo stati. Quanto peserà tutto questo per i cittadini? Cosa si perderà? È vero che è finita l'austerità? L'abbiamo sentite le dichiarazioni? Non so cosa si intende per l'austerità, mi sa che credo che si usi questo termine in modo un po' così vago. Dice no, non è finita, ma non per le regole che sono state fissate ieri. Non è finita perché con un debito di questo tipo noi dobbiamo avere la fiducia dei mercati e noi ci giochiamo su quello. Ovviamente conterà non tanto il livello del deficit, ma che tipo di deficit ci sarà. Ci spieghi che vuol dire? Che tipo di deficit? Ci sono deficit di tipo diverso? Beh, è la grande battaglia che si fa in Europa. Se il deficit viene fatto appunto per fare investimenti che porteranno alla crescita è una cosa. Se si fa soltanto spesa corrente il giudizio dei mercati è differente. L'Italia ha dei fondamentali economici forti, li ha sempre avuti. La ragione è quando ricorda che per vent'anni abbiamo avuto un surplus primario. Noi il debito pubblico ce lo portiamo dallo scorso secolo. L'Italia è passata dal 60% di debito sul PIL all'inizio degli anni Ottanta e alla fine degli anni Ottanta era il 120%. Ecco, poi l'analisi per cosa si è accaduto in quel periodo, ma da lì noi veniamo e poi con alti e bassi abbiamo questa zagurra. Ah, 145. 145. C'è stata la pandemia. C'è stata una reazione alla pandemia un po' troppo, diciamo, abbondante per alcuni aspetti. Ci sono stati, non torniamo sulla polemica, sui provvedimenti come il super bonus che è stato devastante per il bilancio pubblico, ma veniamo anche da dieci anni prepandemici in cui le finanze italiane sono stati, io credo, in misura meno forte, ma devastati da quella che è stata la politica dei bonus. Si andava da un bonus all'altro e questo ha pesato sempre sulle finanze pubbliche e ha impedito, tra l'altro, di fare, e non finisce anche adesso, di fare una riforma fiscale seria perché non c'è assolutamente trasparenza su questo punto per cui i cittadini italiani giudicano le aliquote che pagano, diciamo, quando andano a pagare le tasse, ma non sono in grado, sono di giudicare nella massa dei bonus e delle trazioni chi veramente paga e chi paga meno. Questo è uno degli elementi. Sono stati dieci anni che è stata fatta la politica dei bonus e la Commissione europea su questo non è che sia mai intervenuta, ha dato sempre flessibilità, anche con le vecchie regole, per gli investimenti. L'Italia ha utilizzato la flessibilità sugli investimenti per fare spesa corrente e finanziare i vari bonus. Questa, diciamo, è la realtà. Io questa Commissione l'accuso anche del fatto che di fronte a un provvedimento come il Superbonus è stata zitta, non si è accorto di quello che stava succedendo in Italia e questo mi è parso un po' strano, dato che ho vissuto anche un periodo in cui la Commissione, quando vuole essere occhiuta, sa esserlo. Lei ha trattato direttamente con Bruxelles su alcune cose. Professor Giovannini, ma noi abbiamo il debito, che in realtà è l'ipoteca sul futuro di figli e nipoti. Per il momento continuiamo ogni volta a rinviare il problema di affrontare questa montagna, perché poi le crisi ci toccano proprio perché dobbiamo tanto ai mercati e non campiamo se i prestiti con i quali viviamo giorno per giorno non ci vengono rinnovati. Quando dovrà un governo poi, prima o poi, affrontare questo nodo? Oppure continuiamo a rinviare flessibilità, abbiamo tre anni in più, però fra tre anni il problema è uguale, non è che migliora. Però i mercati non guardano solo al debito, guardano anche all'andamento del PIL, che è infatti il rapporto tra il debito e il PIL. Finché il PIL cresce in maniera tale da far sperare i creditori che l'Italia pagherà il proprio debito, la cosa resta. Tra lo stipendio tu pagherai meglio i debiti. Esattamente, ecco è una cosa che succede anche per le singole famiglie. Per le famiglie, certo. Con una differenza fondamentale, e cioè lei chiedeva prima cosa cambierà per i cittadini. Noi spesso guardiamo alle variabili della spesa corrente, le pensioni, la sanità, e facciamo bene, indubbiamente. Ma c'è una componente, gli investimenti, che nei prossimi anni o cresce, oppure quella capacità di far crescere lo stipendio, cioè il PIL, sarà un serio problema e anche la qualità dei servizi sarà un serio problema. Perché? Perché noi abbiamo molte infrastrutture che sono vecchie, di 60-70 anni fa, costruite nel secondo dopoguerra. Infrastrutture stradali, i ponti, i viadotti. E quelli arrivano a fine vita, a meno che uno non faccia manutenzioni. Abbiamo bisogno di fare nuovi investimenti sulla trasformazione digitale, sulla trasformazione green. Ma questo non è il PNRR? Lei sta elencando quello che dovrebbe essere il PNRR. Ma il PNRR arriva al 2026. Certo, e che dovrebbe affiancarsi agli investimenti che noi facciamo di nostro. Esattamente, perché se è solo una sostituzione, non è che facciamo quel salto di cui abbiamo bisogno. Allora, torniamo alla questione dello spazio per gli investimenti. Le faccio un esempio che ho vissuto personalmente, che racconto anche nel libro. Il nostro Ministero ha gestito in 20 mesi 104 miliardi di investimenti. Una cifra che qualsiasi Ministro delle Infrastrutture ha sempre sognato. Oltre al PNRR... Ci si fanno diversi ponti. Beh, tante cose. No, no, mi riferivo a un ponte del quale si parla con costanza, come dire, in questo caso. Poi un giorno ne parliamo, magari. Va bene, volentieri. La invito proprio per parlare del ponte. Dicevo, accanto agli investimenti PNRR, nella legge di bilancio per il 2022, abbiamo messo 36 miliardi di investimenti in più, da qui al 2030. Lei ce li aveva 36 miliardi di investimenti quando faceva... Mi scusi, eh? Guardi, le dico che le risorse per gli investimenti ci sono sempre state. Che non si spendono. Non c'era la capacità di spendere. E questo è un problema. Io feci fare dalla ragioneria in una settimana, ditemi quanti soldi ci sono per fare investimenti, trovare in una settimana 80 miliardi, già stanziati e assegnati ai vari Ministeri, che erano fermi. Che nessuno spendeva. mandai delle lettere per chiedere spiegazioni, nessuno mi risposta. E che fine fanno quei soldi poi? Stanno là. Spassano di bilancio in bilancio. Quindi la svolta epocale del PNRR, sì, perché se ne parla, ma le risorse per fare investimenti c'erano. Il problema era la capacità di fare. Però finisco la frase. No, no, ha ragione, mi scusi, sono io che l'ho interrotta, ma era interessante. 36 miliardi, quanti emendamenti dal Parlamento? Zero. Cioè le forze politiche... Si sono accorti che c'erano 36 miliardi sui quali lavorare? Non sembra che se ne fosse... Tra l'altro erano metropolitane, tram, cose per i cittadini, come le diceva. Mentre invece le forze politiche discutevano di un milione, due milioni, su quei bonus. Ecco, questo elemento della politica italiana, che è molto centrata sul breve termine, deve cambiare, perché altrimenti, qualsiasi sia il patto, andremo sempre a spendere per spese correnti, l'ennesimo bonus da sbandierare, magari in conferenza stampa, ma non costruiamo il futuro del Paese. E questo... Cioè l'uovo e la gallina, dicerei. Si preferisce sempre l'uovo perché è qui e ora. Esattamente. Giannina, prego. No, era un po' quello che dicevamo anche prima, nel senso che è una... questo patto di stabilità è un patto di stabilità che arriva a una visione, sicuramente per quanto riguarda poi la gradualità aderiente al 2027, ci saranno, cambio di governo e quant'altro, quindi è buono per l'Italia, per un certo punto di vista, meno per l'Europa in sé, perché come stavo leggendo un po' di tempo fa un articolo di un'intervista da Macron sull'Eseco, che la pensava esattamente come l'Italia, e poi negli ultimi giorni ha avuto una virata, nel senso che l'Europa sta guardando all'oggi per oggi, sta facendo una visione un poco miope sul futuro, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti. Questa intervista, che credo sia un po' il pensiero comune di chi si occupa di finanza, di investimenti, è che bisogna ripartire dagli investimenti non solo per fare la guerra tra i Paesi, Italia, Francia, Germania, ma per contestare un'Europa unita delle realtà che stanno diventando dei veri e propri giganti, pensiamo all'America e alla Cina. Quindi ci ritroviamo in un mondo sempre più globalizzato, con un'Europa molto piccola nel suo io, stato per stato, ma anche abbastanza piccola come Europa in sé. Quindi questa situazione porta veramente poco lontano. Poca visione strategica anche a Bruxelles, Roberto. Guarda, ho controllato perché volevo proporre al nostro dibattito i numeri giusti. Il tema del debito pubblico, adesso nell'accordo raggiunto ieri sera si ribadisce come obiettivo tendenziale il 60% del rapporto tra il debito pubblico e il PIL. Nel frattempo però, rispetto a quando questo numero è stato pensato, nel mondo sono successe cose. 91. Punto. Nel mondo sono successe cose. Faccio due esempi. Lasciamo stare i paesi a governance non democratica, perché anche la finanza pubblica vive in altri... Il Giappone, che non è proprio un paese marginale nell'economia mondiale, ha un rapporto debito-PIL di gran lunga superiore al 200%, credo nei dintorni del 225-230%. E gli Stati Uniti, che restano, almeno ancora per un po', la più grande economia del mondo, sono arrivati al 100% di rapporto debito-PIL, con una impennata negli ultimi anni molto significativa e una prospettiva, se i numeri a cui ho dato un'occhiata sono corretti, oggi il debito pubblico americano è intorno ai 34 mila miliardi di dollari e una prospettiva di arrivare a 50 mila miliardi di dollari in un tempo breve da oggi. Questo dovrebbe porci un po', lo dico a Giovannini e a Tria, innanzitutto, e poi anche a tutti noi, un tema anche teorico, cioè questa idea del debito pubblico, come un problema quando diventa grande con un certo numero. Siamo proprio sicuri che le cose stanno così? In secondo luogo, e qui c'è il tema... C'è un problema però di stabilità politica del sistema che forse in Italia c'è un po' meno rispetto ai due paesi che hai citato. Il Giappone, se applicassimo al Giappone le regole con le quali stiamo facendo anche il nostro dibattito stamattina, il Giappone dovrebbe essere uno Stato... Chiuso. Uno Stato che dal punto di vista finanziario ha fallito canalia e dovrebbe essere... Non mi pare che se uno atterra all'aeroporto di Tokyo vede un paese allo sfacelo, no? Bene. Ma gli Stati Uniti, che hanno un sacco di problemi, ma sono oggi Stati Uniti, stanno andando nella stessa direzione. Allora, mi domando, non è che forse in una puntata di Omnibus da te condotta del 2043 saremo qua a dire... Spero di no, per andare in pensione per quella data. Abbiamo fatto 30 anni o 40 anni di dibattiti in Europa sul debito pubblico, era tutto sbagliato, dovevamo andare da un'altra parte. Non lo so, però... Allora, professore, le chiedo una cosa. Perché in Italia c'è una leggenda che è, a proposito di debito pubblico, che è la famosa spending review. Tutti dicono... Ci sono due le leggende. Spending review e il recupero dell'evasione fiscale, che sono i due, come dire, le due promesse che fanno tutti i governi. Taglieremo la spesa inutile, riusciremo... Eh? E combatteremo l'evasione fiscale e avremo i straordinari incassi. Qualche cosa è stato fatto per l'evasione fiscale, la spending review è... un sogno. Perché? Si può fare spending review. Lei era un professore universitario e a sorpresa fu chiamato, a sorpresa lo posso dire, a guidare il Ministero dell'Economia. Cioè, un professore che studia, che conosce, diciamo, le ricette, si è trovato a gestire quel putiferio. Posso dirlo? Guarda, vi faccio... L'esempio che ho vissuto... Eh? Io ero in un governo, diciamo, un po' bizzarro, che si aspettava il disastro di finanziare, che poteva suscitare, quel governo fece il deficit pubblico più basso degli ultimi vent'anni, 1,5. Cosa era successo? Due cose. Uno, la flessibilità ottenuta per gli investimenti, secondo tradizione, non si tradusse in investimenti, ma, contrariamente alla tradizione, quel margine non fu passato a spesa corrente. Questo è il primo punto. Che è stato il dramma dei vent'anni di euro, di interessi... L'altra questione è questa. Noi abbiamo un bilancio pubblico che è circa mille miliardi, mi pare, intorno ai mille miliardi. Sui mille miliardi, basta andare a fare, non dico parole, ti sono antra, spendi in review, un po' di pulizia nel bilancio, un punto, un punto e mezzo di PIL si tira fuori e nessuno se ne accorge. Perché non la si fa, professore? Perché nessuno si mette intorno a un tavolo con le strutture della ragioneria dello Stato che sono efficienti, uno si mette in tavolo e incomincia a vedere capitolo per capitolo. Allora, questo è ovviamente solo pulizia del bilancio, per cui si può correggere immediatamente e dare un segnale diciamo ai mercati un segnale positivo. Poi la spendi in review significa non solo tagli ma passare da spesa di un tipo a spesa corrente a spesa per investimenti o comunque a miglioramento qualitativo. Oppure ci sono spese che sono registrate come spesa corrente tipo istruzione, sanità, diciamo quello in capitale umano in generale come si dice. Che può diventare fortemente produttivo. Che può diventare fortemente produttivo e questo per rispondere è quello che dicevo prima diciamo il debito viene anche dal deficit dipende dal deficit appunto. Il problema è c'è fiducia nella crescita perché poi il debito un debito alto può essere anche interpretato come un credito alto nel senso un paese che merita credito. Il problema è tutto lì allora noi cosa mostriamo diciamo a chi sottoscrive. Ora il Giappone certo tutto il debito mi pare giapponese è tutto interno gli Stati Uniti è una storia diversa debito mondiale diciamo gli Stati Uniti sono gli emittenti del dollaro con cui diciamo si fanno pagare da tutto il mondo il proprio il proprio deficit detto in sintesi ecco c'è una novità importante perché non si lascia fare allora il taglio voglio sentire anche da lei perché anche lei avrà avuto gli stessi problemi a parte quei 34 miliardi che nessuno voleva spendere o riusciva a spendere in realtà appunto il tema è di come riuscire a spendere le cose e qui devo dire il nostro governo e poi le regole che sono state travasate sul nuovo codice degli appalti stanno facendo la differenza l'autorità anticorruzione riconosce che prima per fare una gara dal momento in cui veniva pubblicata al momento in cui veniva chiusa ci voleva un anno e mezzo adesso ci vogliono quattro mesi quindi le nuove regole per gli appalti che abbiamo cambiato in funzione del PNRR stanno funzionando ma c'è una grande opportunità per questo è il pensiero integrato di cui abbiamo bisogno il governo ha inserito nel nuovo PNRR cosiddetto cioè nel riaggiustamento del PNRR una scelta che nessun governo aveva avuto il coraggio di fare e cioè mettere mano ai cosiddetti sussidi dannosi per l'ambiente vuol dire abbassare il prezzo della benzina vuol dire il gasolio agli autotrasportatori e tante altre cose questa riforma deve essere fatta entro il 2026 e in teoria va a affrontare un pacchetto che oggi a causa dell'aumento dei contributi alle famiglie per la crisi energetica vale intorno a 40 miliardi all'anno che teoricamente se trasformati in sussidi a favore dell'ambiente ci fa prendere due piccioni con una fava cioè ci fa fare la transizione ecologica verso le rinnovabili verso l'efficienza energetica questo abbatte la bolletta energetica per le famiglie per le imprese aumentando la competitività ma io vi sento e sembra tutto abbastanza facile professore no aspetta non è facile perché poi non succede però c'è una lista chiarissima di cosa sono questi SAD i sussidi dannosi per l'ambiente e ogni volta che lei li va a toccare scontenta qualcuno allora il tema ma governare non è proprio questo eh certamente il problema è che nel momento in cui tu sei sempre in campagna elettorale hai questo problema cioè lei dice la logica dell'uovo oggi e non della gallina domani ci impedisce esattamente politiche di spesa virtuose queste decine di miliardi potrebbero essere utilizzati per rendere molto più efficienti le nostre case senza i disastri del super bonus spingere le imprese a quel l'efficientamento energetico e rinnovabili che tra l'altro COP28 ha detto è la linea quindi ci vuole anche da un lato la capacità di mostrare i benefici non solo i costi e poi la capacità politica di dire noi lì vogliamo andare e in questo modo convincere gli elettori perché poi per fortuna siamo in democrazia cioè adesso un governo che si annuncia di legislatura potrebbe fare questo perché poi non è mai accaduto o almeno non accade e come le dicevo ci ha sorpreso molti tutti gli osservatori compresa l'ASVIS che questo governo che non è sul tema ambientale energetico apparentemente il più progressista chiamiamolo così il più a favore della transizione ecologica invece abbia scelto ed è un impegno entro il 2026 quello sarebbe un segnale straordinario al sistema economico ma anche ai mercati perché sarebbe una riforma epocale che adesso è obbligatoria e poi c'è il PNRR Giannina perché ne parliamo ne ha riparlato adesso il professore l'abbiamo scritto l'abbiamo riscritto ho perso il conto di quante volte è stato riscritto abbiamo tolto 17 obiettivi abbiamo perso le soldi quinta rata in pagamento però torniamo un po' al discorso che dicevamo prima poi alla fine è un po' un cerchio un modus operandi in Italia anche il PNRR ha difficoltà di essere attuato sui territori se si gira se si girano dei comuni soprattutto del sud se si parla con loro si dice che loro non sapevano neanche fare i bandi cioè questo è un problema proprio strutturale è come avere un portafoglio pieno e non sapere poi come spenderlo il problema grosso anche dei fondi europei il sud aveva una quantità di fondi europei c'è la terza leggenda italiana che è la semplificazione della vita ma è così è la grande leggenda perché tutti semplificano io mi ricordo il lanciafiamme di Calderoli però i tempi che lei che citavo prima sono effettivi però il famoso lanciafiamme si ricorda il lanciafiamme per distruggere migliaia di leggi però credo che più o meno siamo a quello parliamo anche prima del tema della concorrenza e il tema della gestione degli appalti PNRR prevede che alcune faccio un esempio che per partecipare ai bandi le società devono avere determinate caratteristiche le aziende anche in termini per esempio di parità di genere non controlla nessuno sono tutte fuori regola e quindi allora da una parte non le sappiamo mettere a terra dall'altra quando le mettiamo a terra non facciamo delle verifiche secondo me insomma è un paese che come torniamo a dire che le potenzialità in termini di risorse di posti dove investire di soldi ci sono ma poi manca una visione d'insieme non se ne esce Roberto ma no adesso che per la verità non se ne esce sono anni e anni che ci dibattiamo su questo insomma i problemi sono complicati e c'è una e siccome vogliamo risolverli dentro un sistema democratico dobbiamo accettarle tutti i difetti e le lacune il che non vuol dire naturalmente dire che va tutto bene perché non va tutto bene però dobbiamo anche renderci conto che c'è una distanza tra le cose perfette e quello che si può fare l'Italia secondo me oggi non lo diciamo mai ma diciamo ad esempio no lo dico tra i numeri che ci preoccupano ce ne sono anche alcuni penso a quello dei dati sull'occupazione che è un dato noi abbiamo per decenni ragionato come se la condizione dell'Italia in particolare nelle regioni del sud e in particolare per la quota femminile della popolazione come se fossimo destinati a vita ad essere in una condizione drammatica di grande dato di disoccupazione in realtà abbiamo visto negli ultimi anni che l'Italia ha una sua capacità di cambiare di evolvere ci portiamo dietro antichi problemi però questo paese si dimostra forte ed energico e lo si è visto anche dopo la pandemia la risposta del PIL italiano è stata la più sulla preoccupazione delle donne però c'era il booster la droga superbonus certo certo questo non c'è dubbio non è che da sola spiega tutto la verità è che aiuta 140 miliardi aiutano però la vera reazione è stata nella manifattura in parte nel terziario dopo la pandemia intendo dire io poi possiamo parlare un attimo di PNRR allora guardi facciamo così mi fermo mi fermo e abbiamo dieci minuti per parlare di PNRR e un'altra cosa il mess fra poco allora professor Giovannini voleva parlare di PNRR della messa a terra del PNRR prego sì secondo me la situazione è molto migliore di quella di cui per mesi si è parlato pensi ai sindaci ai comuni che si diceva non c'erano le persone per fare i bandi eccetera eccetera e quindi sembrava che togliere i soldi ai comuni fosse un'operazione in dolore quando il governo ha detto allora li togliamo i sindaci hanno detto no no ma veramente noi siamo in grado no lo stiamo facendo semplicemente non abbiamo aggiornato le banche dati allora esiste ed è vero esiste un reale problema e cioè di dati disallineati tra la realtà e quelli che poi appaiono nella rendicontazione complessiva ma il PNRR sta procedendo e anche questa rimodulazione del PNRR fatta al governo impatta per il 9% sul totale dopo due anni mi sembra assolutamente ragionabile quindi spendiamo perché c'è un termine entro il quale spendere è obbligatorio ma i termini entro i quali spendere ci sono anche per i soldi nostri o per i soldi europei che diventano poi ci dovrebbero essere cosa che non c'è stata lei pensi a tutta la politica di coesione quella per il sud per tanti anni si davano i soldi e poi su quello come può accadere però una cosa mi scusi ci sono i soldi e io non li spendo si perché si davano però è paradossale si assegnavano i soldi e allora a quel punto la regione cominciava a fare i progetti il PNRR ha ribaltato tutto questo tu mi devi dire che cosa pensi di fare e io ti do i soldi bene ha fatto il governo a questo punto ad allineare la metodologia dei nuovi fondi europei di coesione parliamo di circa 80 miliardi nei prossimi anni quindi non poco alla metodologia chiamiamola così del PNRR quindi meno sagre della salsiccia dovremmo vedere come si diceva una volta cioè spese improduttive e molto più rafforzamento di quegli investimenti del PNRR che non potevano essere risolutivi di tutti i problemi soprattutto al mezzogiorno quindi bisogna andare a vedere adesso questa pratica e tra le riforme PNRR nuove diciamo così messe dal governo c'è proprio la riforma della politica della coesione vedremo se saremo capaci finalmente di cambiare il registro Professor Tria è così? Può funzionare così? Possiamo accelerare? Ma io credo o il PNRR Dico Giovannini ha vissuto dentro il PNRR io no quindi ma credo che il PNRR è un insieme di tantissimi progetti non si intravede bene il piano complessivo però sono tanti investimenti allora intanto c'è alcune cose citate anche prima prima si parla di sprechi allora le difficoltà politiche dietro gli spreco c'è un reddito questo è il problema allora c'è un problema politico poi bisogna affrontare problemi complessi io non credo alla parola semplificazione perché i problemi sono complessi il problema è gestire la complessità non è che si risolvano i problemi perché io semplifico devo gestire la complessità è uno delle tante gli altri problemi del PNRR di alcuna parte problemi che c'è un problema della pubblica amministrazione come si diceva di mettere a terra ma c'è un problema di offerta poi del settore privato del settore diciamo che coinvolge l'industria delle costruzioni diciamo infrastrutturale beh c'è un limite della produzione di queste cose se io posso pianificare 50 tunnel fare i tunnel ci vogliono le talpe devo avere le talpe devo avere le persone in grado di guidare le talpe quindi c'è un problema di programmare nei tempi possibili l'offerta altrimenti tra l'altro il super bonus ha influito su questo e quindi c'è un problema anche di rischio di creare inflazione se ci sono dei colli di bottiglia che voglio vestire di più in un settore dove c'è difficoltà a produrre dobbiamo creare un movimento armonico certo perché il PNR crea la domanda in qualche modo ma poi c'è qualcuno che produce quello che il PNR vuole l'altra cosa è una seconda fase che sono le politiche di coesione a 10 anni crea i settori diciamo come creare a balanga diciamo investimenti per rafforzare i settori produttivi che siano in grado di far fronte a questa ondata di investimenti diciamo da punto di vista macroeconomico se dobbiamo andare a una stagione in cui si devono privilegiare gli investimenti la struttura produttiva deve andare a produrre i cosiddetti beni capitali che non sono come cent'anni fa ma sono diversi dai beni di consumo o servizi di consumo e c'è un aggiustamento deve esserci un aggiustamento della domanda verso appunto la spesa in conto capitale non corrente ma anche della struttura dell'offerta l'altro problema è quello che è stato evidenziato da Enrico Giovantini la differenza tra spesa in conto capitale e spesa corrente perché non abbiamo manutenzione in Italia e c'è 70 anni di degrado delle infrastrutture perché io mi ricordo fino agli anni 80 quando fu introdotto il fondo investimento per l'occupazione la prima ondata di investimenti con le regole della banca mondiale analisi costi benefici il problema qual era la manutenzione spesa corrente la manutenzione straordinaria cioè quando il ponte sta per crollare diventa spesa in conto capitale e allora si aspettava la manutenzione straordinaria dove c'erano più i fondi la storia dei comuni io non so se è vero ancora ma io ho letto che i comuni preferivano non fare gli asili nido ma investire sulle scuole primarie elementari eccetera perché perché per gli asili nido costruivano l'asilo nido e poi dovevano assumere gli addetti nelle scuole primarie i maestri già c'erano e quindi rifacevano le scuole ma la spesa corrente connessa già c'era Giannina no torniamo sul tema della persona e della formazione che è un binomio che manca cioè puoi fare qualsiasi cosa ci possono essere i fondi che vuoi ma se non hai chi te li applica e poi chi dopo gestisce perché non solo appunto si può comprare la trivella ma poi la devi guidare se non hai anche questa visione d'insieme non vai da nessuna parte lo diceva l'Istat caro al professor al professor Giovannini l'altro giorno con questi numeri noi non e se poi continuiamo a non investire in informazione quindi nelle scuole e ancora nelle manovre secondo me è l'unica che vera spesa che va fatta in un paese civile a sanità e formazione sono due temi che secondo me vengono sempre messi troppo sotto sotto il tappeto soprattutto la formazione tanto è vero che poi troviamo del personale anche estero che è molto più formato di noi che poi per n motivi non lo prendiamo e poi invece quello che abbiamo lo esportiamo perché abbiamo degli stipendi bassissimi quindi secondo me bisogna ripartire dalla professionalità e dalla persona il tema della formazione che solleva Giannina è una delle grandi questioni italiane ma per lavorare su quel versante lì ci vogliono le persone e torniamo da capo no questo lo dico perché il discorso che ha fatto Elon Musk a Treiu e poi Musk lo fa col suo modo estrionico di ragionare ma noi non dobbiamo dimenticare avendo qui tra l'altro un grande economista come il professor Tria e l'ex presidente dell'Istat che questo nostro paese italiano da tutti i punti di vista si regge dal punto di vista del pagamento delle tasse del funzionamento della macchina dello Stato e anche del mondo privato si regge essenzialmente sulla generazione del boom economico cioè di quelli che ne parliamo fra poco arriva qualche d'uno per parlare proprio di questo che ancora per uno due decenni terranno insieme le cose l'Italia di domani che uno può pure dire se la vedranno quelli che ci saranno però se invece vogliamo ragionare in prospettiva dobbiamo sapere che i numeri degli italiani non consentono di dare una seria prospettiva ai discorsi che qui stiamo facendo questa è una questione che comincia se proviamo a fare una conversazione con chi si occupa di risorse umane non solo nelle aziende ma anche in pezzi rilevanti penso alle forze armate o alle forze di polizia vedi che c'è un serio tema di persone che si avvicinano a questi percorsi professionali non per mancanza di opportunità economica o di prospettiva di carriera o altro ma per il semplice fatto che le persone cominciano oggettivamente a mancare non c'è ristorante italiano o negozio o attività commerciale nella quale se tu chiedi al titolare quanti siete qua sette e quanti di quanti avresti bisogno e se tu trovassi altri due o tre li prenderei subito ma non li trovo questo è la costante delle attività di caratteri commerciali in Italia allora dobbiamo questo è un tema che perché poi e ho finito la demografia diventa pil in un attimo non è che gli andamenti demografici e di questo parliamo tra un secondo con il professor Giovannini al professor Atria voglio chiedere due cose una rapidissima lo approviamo il MES guardi io spero che venga approvato perché come sempre ripeto poi questo è un altro capitolo dal MES è stato negoziato e sono stati tolti tutte le cose che non volevamo che tra l'altro ricompaiono nel patto di stabilità che è stato approvato e quello la parte surreale cioè nel nuovo patto di stabilità la commissione inizia il processo con un dichiarazione pubblica sull'analisi di stabilità del debito cioè una specie di rating del debito dei singoli paesi che è una cosa molto pericolosa che pone la commissione in un negoziato col paese in cui il paese è in ginocchio perché di fronte ai mercati gli stabiliscono questo ecco il fatto di non rendere pubbliche in questo modo le analisi di stabilità che sono analisi che fanno tutti ovviamente anche lo faceva prima ma in modo diverso è stato tolto dal MES che però non si approva ma è stato approvato il patto di stabilità in cui quel pericolo di rating differenziato di titoli di stati dei singoli paesi è stato reintrodotto dall'altra parte questo è quello che io considero surreale l'altra cosa io credo che la provazione del MES sia dentro il patto di ieri sera credo che il sì dell'Italia arriva anche grazie a questo l'altra cosa ma se parlassero tutte le banche dati di questo paese non risolveremo un sacco di problemi mi riferisco ad esempio all'evasione fiscale così tanto si parlano però non pare sì assolutamente si parlano si parlano si parlano la fatturazione elettronica ha cambiato ha cambiato il sistema è stato introdotto è stato introdotto bene e si parlano poi i dati sull'evasione fiscale sono stati stima sono delle stime certo e dico giovanino maestro di questo sono stime intorno al reddito prodotto a cui dovrebbe teoricamente corrispondere un getito fiscale teoricamente perché ci sono dentro tante di quelle norme dalle detrazioni eccetera per cui poi tutto questo ormai monitorato attualmente l'inverno demografico professor Giovannini è vero è l'emergenza oppure abbiamo altre soluzioni c'è tanta mano d'opera nel mondo la demografia è la grande guida dei processi economici sociali sia positivi che meno positivi lo sappiamo da vent'anni che con la demografia italiana non si va da nessuna parte ora cominciamo a vedere risultati in termini di riduzione del numero di persone più l'emigrazione di persone di qualità perché le imprese pagano pochissimo i giovani italiani questa cosa la dobbiamo dire e qui la pubblica amministrazione non c'entra nulla e dunque abbiamo un serissimo problema ma come noi tutti i paesi europei i nostri giovani migliori vanno via questa è l'altra questione appunto quindi il tema dell'immigrazione regolare di professionalità di un certo tipo o di persone che poi devono essere formate qui è un problema reale e spero venga affrontato con continuità questo è l'altro elemento più che con oscillazioni ma per far questo torna la questione della programmazione abbiamo bisogno di dire alle imprese facciamo ancora l'esempio delle costruzioni che il PNRR non è una bolla ma che per 10-15 anni quello è il settore su cui investiamo quindi anche gli ingegneri non solo informatici ma anche quindi la programmazione pubblica e qui c'è un problema serio nel nuovo codice degli appalti la programmazione pluriennale delle infrastrutture è stata cancellata cioè si è tornati alla cosiddetta legge obiettivo del 2001 del governo Berlusconi in cui il governo di turno definisce le opere prioritarie e le finanze punto invece si sarebbe potuto fare un piano pluriennale magari votato al Parlamento in maniera bipartisan e poi il governo di turno naturalmente preferiva quest'opera piuttosto che parafrasando il libro del professor Giovannini una rivincita della politica esattamente è peccato che invece con questo meccanismo ogni governo che arriva magari decide di definanziare un'infrastruttura e poi farne un'altra e quindi le opere incompiute io credo che sia un gravissimo errore non capisco come la commissione che richiede ai paesi per avere i fondi europei questo tipo di programmazione l'abbia fatta passare nell'opinione pubblica nessuno si è interessato del tema però per dire come tutto è collegato e se non abbiamo programmazione non abbiamo programmazione né dei flussi di immigrazione né della formazione né dell'allocazione ottimale delle persone che abbiamo davanti tanta roba avremmo dovuto proseguire a lungo grazie al professor Tria al professor Giovannini a Gianina Landau a Roberto Arditti noi ci fermiamo un istante e torniamo per parlare di boomer quelli che governavano governerebbero dicono il mondo fra poco ancora per qualche anno allora 9 e 15 buongiorno a Matteo Bordone buongiorno grazie per avermi invitato giornalista scrittore tante cose e con un libro che è uscito da pochi giorni l'invenzione del boomer io sono un baby boomer perché forse possiamo vedere il cartello alle mie spalle magari a tutto schermo per cercare di capire qualche cosa io sono un boomer non so se mi hanno inventato sono qui però tu non sei un boomer perché sei del 74 spieghiamo allora che secondo la classificazione che vedete che è americana diciamo perché è occidentale è occidentale e proprio statunitense perché se uno si toglie da qui scopre che in tutti i paesi un po' in tutte le culture a seconda di quello che è successo in quei posti cambia ovviamente il modo in cui definiamo le varie generazioni per esempio la rivoluzione culturale in Cina ha prodotto dei figli della rivoluzione culturale così come la politica del figlio unico in Giappone utilizzano le ere imperiali per definire il tempo quindi ci appoggiamo a questo schema in occidente per comodità in occidente diciamo che c'è la generazione dei baby boomers 46 teoricamente e 64 queste sono codificate però codificate poi io sono un baby boomer 1959 Matteo Bordone 1974 posso dirlo credo fa 50 anni quello nuovo che viene generazione X 1965 1980 poi generazione Y 81 96 poi la Z gli zoomers o generazione Z 97 2012 e poi ci sono i nuovissimi gli alfa dei quali ci preoccuperemo quando cominceranno di che parla l'invenzione del boomer allora parla del fatto che a un certo punto noi più o meno nel periodo del poco prima che partisse quel fenomeno che ci ha portati a guardarci e a discutere di noi con una certa trepidazione perché c'era la pandemia globale che temevamo da anni e che si è manifestata quindi alla fine del 2019 abbiamo cominciato a vedere una specie di schermaglia fra generazioni tutta di comunicazione quindi tutta sui social network che si è basata sull'espressione ok boomer tutto parte da questo meme tutto parte da questo meme ok boomer che a un certo punto ha un successo enorme e sappiamo che i memi sono come i virus no? cioè continuano a rimpastarsi finché non trovano una formula buona per riprodursi negli organismi e gli organismi nella comunicazione sono le nostre dita che digitano e le nostre bocche che parlano quindi a un certo punto ok boomer ha funzionato e si è diffuso possiamo dire ok vecchio in qualche misura ok si nonno va bene nonno ciao perché il concetto è ok che è un modo per dire non ne parliamo più qualunque cosa tu abbia detto non mi interessa come spunto di dibattito perché con te non voglio più parlare questo è quello che hanno detto però i boomer hanno un problema i boomer in qualche maniera il libro lo racconta e lo racconta in una maniera molto articolata i boomer governano una parte di questo mondo e beh perché sono nell'età anche perché questo è un mondo che invecchia e quindi queste persone che hanno dai 46 adesso hanno 80 anni i più esatto fino ai 65 stanno arrivando ai 60 i boomer più giovani e sono 80 anni gli altri esatto diciamo che governano gran parte del mondo poi hanno fatto tutto il problema dei boomer è che hanno fatto tutto nella loro vita rivoluzioni di qualunque genere da quella sessuale a quella dei costumi a quella culturale l'hanno fatta i boomer l'hanno fatta e si sono resi in qualche misura adesso vanno presi un po' però lo dico un boomer scusami si sono resi fisiologicamente insopportabili cioè nel confronto con le generazioni più giovani se tu hai un padre una madre che sono legnosi e che non condividono niente delle tue istanze è meglio perché così ti puoi definire e invece i boomer sono quelli che quando qualcuno va in piazza a lottare per il riscaldamento climatico possono avere l'atteggiamento sì ma abbiamo cominciato noi ma noi abbiamo avuto il divorzio l'aborto abbiamo fatto le comuni siamo stati noi i primi siamo stati noi i primi le droghe i boomer per dire hanno attraversato il periodo dell'eroina la più violenta e spaventosa che ci sia quindi diciamo che sono quelli più navigati che guardavano tutto dall'alto in basso abbiamo fatto di tutto e di più con un problema poi è arrivato allora c'è un altro di questi schemi che non vi faccio vedere ma poi è facilissimo da comprendere perché poi ci sono le generazioni precedenti e i boomers c'è la generazione silenziosa 28-45 ma qui già siamo ai limiti del secolo la greatest generation 1901-1927 è la generazione perduta in tutti i sensi perché ormai non c'è più nessuno questi non ci sono 883-900 allora però qui in un altro di questi schemi diciamo le generazioni si possono distinguere attraverso i loro mezzi di comunicazione qui è più facile perché allora diciamo per la generazione più matura c'era l'automobile e c'era la lettera certo automobile e lettera poi arrivano i boomer che hanno la televisione e il telefono certo poi è arrivata la generazione X personal computer e la mail certo e quindi già uno scatto qualitativo incredibile c'è sempre io pensavo i miei genitori ma voi siete nati quando non c'era la televisione a me sembrava una cosa inconcepibile poi è arrivata la generazione X che aveva diciamo lo smartphone e i social e poi ci sono i nuovi certo che avranno che cosa l'intelligenza artificiale da una parte probabilmente la gestione quotidiana di strumenti che prevedono l'intelligenza artificiale quindi quello cambierà ancora le cose e forse definirà di più le generazioni il punto è che questo schema è molto pubblicitario giornalistico quindi dopo i boomer però è facile da ricordare perché sono delle svolte epocali della storia ti faccio un'altra domanda c'è un libro molto famoso che è quello di Harari il grande scrittore quello che ha scritto Sapiens da Animali a Dei e poi tutta una serie di libri fortunatissimi dice che la generazione dei boomer ha vissuto un trauma incredibile il trauma è che a un certo punto noi siamo quelli scusaci noi boomer che siamo andati sulla luna voi no però sembrava quella la frontiera all'epoca quella doveva essere la frontiera dei boomer la scoperta dello spazio la storia è cambiata all'improvviso dopo pochi anni dall'allunaggio sono arrivati i computer e la storia ha preso una piega incredibile e diversissima infatti poi tutte queste questioni di grande popolarità dei viaggi spaziali della fantascienza quando io avevo vent'anni erano completamente inesistenti sono arrivati adesso con Elon Musk paradossalmente sono tornati scusami se lo dico da boomer ma abbiamo fatto prima nella mia vita io ricordo quando la spesa degli Stati Uniti aveva insomma il sogno americano sulla NASA ha messo una quantità di soldi tale per cui poi sono riusciti ma me lo ricordo perché ho visto i film poi per me per esempio la guerra fredda era solo angoscia bombe atomiche e paura quando ero bambino e quella l'abbiamo fatta noi sempre noi insomma bisogna stare attenti all'attribuzione delle responsabilità perché ovviamente le generazioni non hanno delle colpe collettive mai e questo poi tra il 2019 e il 2020 durante diciamo la diatriba di ok boomer e questa specie di bisticcio collettivo che c'è stato è emerso a un certo punto il tentativo di dare una colpa una responsabilità ai boomer i boomer sono antipatici proprio perché hanno fatto tutto però sono disarmati ad esempio quando è arrivata la rivoluzione degli smartphone certo sono disarmati sono più lenti capiamo un po' meno proprio perché c'è quell'evoluzione di sistema diciamo che fa sì che dalla basti pensare che i grandi protagonisti della rivoluzione dell'hardware quindi dei computer Bill Gates e Steve Jobs quando poi è arrivato il giro nuovo degli X diciamo quindi i social quindi Google oppure lo stesso Elon Musk e tutta la sua tecnologia non l'hanno preso cioè tutti quelli che sono oggi i protagonisti dei servizi più che della produzione di oggetti che sono le aziende più ricche al mondo che stanno diventando boomer anche loro a modo loro sono tutti non boomer nel senso che a modo loro ok boomer anche per loro anche loro a un certo punto c'è un momento in cui si diventa sempre il boomer di qualcuno ma non è il conflitto fra generazioni di sempre il conflitto fra generazioni di sempre è diciamo fisiologico è sano e ne siamo felici è stata proprio la diciamo io nel libro cerco di identificare il primo momento in cui nella civiltà europea si è bisticciato fra padri e figli ed è nel primo libro dell'Iliade quindi è proprio fondamentale da sempre i vecchi dicono ai giovani che sono rammolliti io ma i tempi miei esatto e i giovani dicono lasciami perdere fammi fare la mia vita i boomer non permettevano di fare tutto questo perché erano quelli che avevano già fatto le rivoluzioni già litigato con i genitori eccetera la tecnologia è stato il luogo dove tendere un sacrosanto piccolo agguato ai boomer e dire guardate che anche voi a un certo punto in qualche misura dovete scendere da cavallo o farvi aiutare perché la tecnologia è disorientante perché naturalmente chi non ha praticità la generazione precedente alla mia parliamo sempre di generazioni in questo caso non ha avuto difficoltà con il computer noi siamo la generazione che non nativa digitale come si dice adesso due generazioni dopo teoricamente in queste classificazioni un po' così così però diciamo ci sappiamo fare o comunque abbiamo dovuto imparare però i social ci hanno un po' spiazzati e c'è questa distinzione per età anche dei social? beh sì certo a seconda dei social allora per esempio c'è Snapchat che è rimasto che è molto complesso dal punto di vista proprio della gestualità è rimasto per ragazzini ed è l'unico per il resto tutte le aziende vogliono come dire tenere in campo una campagna acquisti eterna di qualunque fascia d'età però Facebook è per boomer è diventato per boomer nel senso che quando poi passano di moda è il primo poi sì quando passano di moda le persone che sono più consapevoli di cose di moda e cose no se ne vanno e i boomer che sono un po' passi rimangono lì a scrivere buongiornissimo caffè testimoniando di essere un po' fuori tempo ma va bene così la parola boomer da mezzo insulto che era oggi è un modo per prendere le distanze e dire sì è un po' una boomerata sì forse dico una cosa un po' boomer cioè per rendersi conto io che sono un boomer sono su Facebook però sono anche sugli altri presto abbandonerai Facebook perché? perché ti renderai conto che è il caso di evitare diventa archeologico anche per me Facebook esatto e quindi sarò sugli altri mentre i giovani sono a parte Snapchat che però è marginale sono ovunque sono spesso sono molto su TikTok ovviamente però anche lì c'è tutto un discorso di quali social network sono fatti per produrre contenuti e quali per consumarli TikTok è molto per osservare cose fatte da qualcuno senza interagire tutti adesso è uscito Trends vedere mode creare mode seguire mode esatto adesso è uscito Trends che invece è più vicino a quello che poteva essere Twitter prima che arrivasse Musk e cercasse di distruggerlo vedremo come andrà però diciamo che la caratteristica dei boomer di essere più consapevoli delle cose e al timone rispetto a altre generazioni che li ha resi veramente numericamente in alcuni paesi per esempio gli Stati Uniti anche un filino qua ma non così tanto più importanti a un certo punto anche per i boomer è finita cioè i boomer non hanno una competenza e un istinto rivoluzionario eterno allora un boomer chiede a un generazione X quindi siamo già tutti archeologici perché io ti chiedo quanto c'è da aver paura e che cosa dobbiamo temere o sperare da quello che sarà la realtà degli alfa l'intelligenza artificiale io sono convinto che non sia il caso di preoccuparsi l'intelligenza artificiale è un mondo talmente enorme che oggi diciamo siamo immersi è una nebulosa ancora sì esatto siamo immersi di informazioni che riguardano l'intelligenza artificiale ma ancora non è ben chiaro cosa succederà per esempio abbiamo visto molti esempi artistici ma l'ambito artistico sarà inutile diciamo che è il big bang dell'intelligenza artificiale in questo momento beh siamo vicini il problema è che sono poche aziende al mondo che sono in grado di gestire la versione più potente di questa tecnologia vedremo come verrà poi declinata in basso e come saprà pervadere diciamo la società quindi io faticherò molto a capirci qualche cosa tu un po' meno io anche ma un po' meno e così via degradando fino a quelli che diranno ai loro genitori che saranno generazione Z ma come tu sei nato quando non c'era l'intelligenza cioè si ripete all'indietro la tecnologia soprattutto adesso che sta vivendo un'accelerazione enorme dà l'impressione che sia tutto un nuovo vecchio nuovo vecchio ma ricordo che una decina di anni fa direi 15 sembrava che tutti dovessemo avere un ipad e non avere questi oggetti più in mano mai più erano una cosa vecchia che spariva invece per esempio la carta ha resistito perché è una è un materiale questa fatica questa fatica questa dei quotidiani si i quotidiani fanno fatica però per esempio per i libri è un materiale ad altissima tecnologia la carta è un super high tech millenario e quindi resiste rispetto a una tecnologia più dinamica e quindi anche più che può invecchiare come è quella di un tablet che cambia forma mille volte senti un altro problema è che e anche questo lo racconta bene Arari perché i libri sono quella storia del mondo di Arari è veramente da leggere ecco perché spiega e racconta tante cose in realtà questi progressi tecnologici che prima erano lentissimi ci si metteva centinaia di anni e adesso sono sempre più ravvicinati e sempre più rivoluzionari ripeto solo per capirci nel giro di un secolo siamo passati dalla lettera al telefono alla mail ai social siamo passati dall'automobile alla televisione al computer allo smartphone all'intelligenza artificiale cioè e sono sempre più ravvicinati e sempre più clamorosamente impattanti questo è vero diciamo dal novecento in poi la tecnologia poi se uno legge diciamo i libri sull'ottocento scopre che l'ottocento e dimentichiamo la radio il mio grande amore diciamo è un altro strumento che ha attraversato il secolo e gode di buona salute gode ancora di buona salute in varie forme diciamo che è molto la logistica che cambia no? è il problema dell'informazione che è sempre stato i quotidiani sono sempre stati legati a quella logistica lì mentre parlo da insomma persona che lavora al post quindi un quotidiano online è proprio la logistica che sta cambiando le cose e con la logistica se ne vanno i soldi da una parte o dall'altra quello è il punto concentrazione di risorse che si spostano molto rapidamente quindi io credo che il problema sarà molto quello cioè come cambieranno le nostre abitudini ma anche come si sposteranno le risorse economiche perché questi detentori di intelligenza artificiale che probabilmente boomer non saranno saranno però saranno sicuramente tutta invidia per noi boomer no esatto saranno o X o millennial secondo me o miei coitani molto ricchi o millennial potranno avere in mano le leve del potere anche per loro arriverà una fase in cui qualcuno dirà loro siete vecchi e avete stufato per qualche ragione X generation o KX o KX o KZ chissà si troverà un modo un minuto solo grande problema che riguarda tutti e che riguarda tutte le tecnologie le fake news ebbè quello è un problema gigantesco che va legato al fatto che ancora non abbiamo sviluppato perché è globale e non abbiamo sviluppato degli anticorpi su quello e poi c'è il problema che le fake news da sempre esistono e sono la differenza fra racconto e verità la verità a volte è molle non efficace non eccitante un racconto che non è legato alla verità che invece è molto efficace può schiacciarla questo esiste da sempre solo che nella diffusione capillare delle notizie vincono quelle più efficaci ancora una volta e non si sa se sono vere però l'efficacia non ha a che fare con la verità e questo è un grosso problema l'intelligenza artificiale non ci aiuterà neanche in questo o almeno in una certa misura potrebbe farlo ma non lo sappiamo ancora perché è la nebulosa in corso l'invenzione del boomer il boomer ha intervistato una generazione X anche per gli alfa di questa sera io mi fermo grazie ci siamo ci siamo divertiti un po' a parlare di generazioni e di conflitto di generazioni io lascio Andrea Pancani e a Coffee Break l'appuntamento è qui domani alle 8 con Omnibus grazie arrivederci e grazie a Matteo Bordone grazie a voi grazie a tutti